bene buon pomeriggio benvenuti stiamo trasmettendo dalla sede della scuola forense foro europeo la scuola forense ormai da molti anni prepara per gli esami di avvocato da quest'anno è stata anche accreditata senza l'articolo 43 della legge 247 del 2012 dal consiglio nazionale forense per poter svolgere i corsi obbligatori per l'accesso alla professione forense sono dei corsi integrativi e c'è un poco in giro ci sono molte confusione molto informazione a mio avviso alcune errate altre incomplete proviamo a fare il punto della situazione sappiamo che ai sensi dell'articolo 43 della legge 247 era una norma già prevista naturalmente dall'entrata in vigore del 2013 della legge il tirocino il tirocinio dice il primo comma oltre che nella pratica svolta presso studio professionale consiste a tesi nella frequenza obbligatoria e con profitto per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuta da ordini associazione nonché da altri soggetti quindi la norma era entrata in vigore sostanzialmente nel febbraio del 2013 ma di fatto non aveva trovato attuazione perché era necessario un regolamento attuativo interviene il ministero sempre in coordinamento con il consiglio nazionale forense con il decreto ministeriale 17 e fissa tutto quelli che sono le modalità per lo svolgimento del tirocinio stiamo parlando di decreto ministeriale numero 17 del 2018 dal 2018 di volta in volta questo decreto ministeriale è stato rinviato fino all'ultima scadenza che era marzo del 2022 quando non c'è stato nessun rinvio anche perché a seguito del pandemia è cambiata la normativa di fatto e di diritto sulle minorità di svolgimento dell'esame e quindi c'è tutta una previsione vedremo prossimamente non voglio anticipare assolutamente nulla che sarà oggetto del nuovo ministro della giustizia e quindi avremo modo di vedere fra qualche settimana qualche mese come si andrà a svolgere l'esame se andrà svolto così come prevede la legge 247 quindi con tre prove scritte sappiamo che la prova che viene fatta quest'anno è l'ultima perché era era una modalità prorogata proprio per la pandemia e quindi oppure se ci sarà una modifica così come avevano già esaminato la commissione di giustizia al parlamento della camera dove erano previste alcune ipotesi diverse di svolgimento della prova di esame per l'accesso all'abilitazione l'abilitazione della professione forense cosa era successo e cosa è successo sostanzialmente che l'idea che era nata che sotto la pressione la spinta anche da parte del ministero e dalla parte dell'istituzione forense e soprattutto da parte dei giovani e quella di modificare il sistema per accedere alla professione quindi eliminare il famoso sistema delle tre prove scritte e creare una modalità diversa e che la modalità diversa è in parte chi ha voglia può andarsela a vedere era formalizzato in una serie di disegni di leggi erano state oggetto di esame e in questa discussione davanti alla camera le commissioni giustizia ed era prevista la possibilità di rimodulare il sistema a partire probabilmente dal 2024 con una sola prova scritta a scelta del candidato e quindi da quella impostazione era partita l'idea di far partire le scuole forense in modo da preparare i tirocinanti insieme alla pratica così come che deve essere svolta partecipando all'udienza negli studi eccetera con un corso di formazione il decreto ministeriale del 2018 il nome 17 che chi ha voglia può andarsi a vedere su normativa perché pubblicato comunque su tutti i siti stabilisce le modalità di svolgimento della di questo tirocinio obbligatorio non solo stabilisce anche i tempi di svolgimento e ne parlerò fra un attimo stabilisce quali sono le materie da svolgere da parte delle scuole forense delle altre scuole autorizzate che sono le scuole eventualmente di specializzazione scuole convenzionate con l'università o scuole private come lo è foro europeo che è stato presentato un progetto consiglio nazionale forense il 23 settembre è stato la scuola è stata accreditata la norma prevede lo svolgimento di 160 ore quindi non è un grosso impegno in 18 mesi e quindi se andiamo a vedere c'è un ogni sei mesi dovrebbero svolgersi tra le 50 le 60 ora abbastanza semplice ci sarebbe ci saranno per quanto riguarda la nostra scuola saranno organizzati sei o sette incontri in modalità frontale altri possono essere svolte in modalità a distanza perché sempre la stessa norma stabilisce che c'è un minimo obbligatorio di partecipazione agli eventi alla scuola e dell'ottanta per cento delle lezioni e di questi ci sono 16 lezioni io faccio il calcolo relativamente a semestre attenzione a non ai 18 mesi perché la il corso si è caratterizzato sempre su indicazione dal decreto ministeriale in sviluppi semestrali i semestri vanno da maggio a ottobre da novembre ad aprile poi da maggio ottobre così via e il tirocinante deve partecipare almeno a tre semestri superare le prove di valutazione che vengono fatte e accedere così avere il certificato che è che va a completare la pratica per poter accedere all'esame all'abilitazione professionale dicevo si tratta di 60 ore mediamente tra i 53 60 la scuola ne ha previsto 60 di questi sono l'ottanta per cento quindi se per 8 48 16 sono a distanza se andiamo a fare una valutazione noi ci troviamo ad dover svolgere sostanzialmente 32 ore in presenza in presenza il resto si può fare a distanza su corsi che vengono programmati dalle varie scuole quello che invece è importante evidenziare non è tanto la normativa perché basta leggersi il decreto ministeriale l'articolo 43 e della legge professionale per avere il quadro completo del della scuola delle modalità di svolgimento delle elezioni della durata e così via in virtù sempre della legge dell'articolo 43 la legge 24 7 il consiglio nazionale forense poi in virtù anche come prevede che tu ministeriale ha stabilito delle linee guida per dare delle indicazioni uniformi su tutto il territorio nazionale tutte le scuole quindi private le scuole dei consigli dell'ordine altri di politici di scuole dell'associazione devono attenersi a queste linee guida e sostanzialmente nelle linee guida noi troviamo i semestri che partono come dicevo dalla mese di maggio perché mese di maggio il primo semestre perché tutti voi ricorderete o saprete che i 18 mesi vanno calcolati dalla 10 maggio di ogni anno per poi poter accedere al bando che normalmente stabilisce un termine che l'11 novembre infatti sta per scadere quello per fare l'esame e per aver raggiunto tutta la pratica e forense quanto prevede la vecchia normativa per poter avere poi il famoso certificato per accedere all'esame è sempre il consiglio nazionale forense nella linea guida che ha previsto le modalità di svolgimento delle prove un attimo adesso c'è una percola interferenza adesso chiudiamo un'altra porta ha previsto le modalità delle prove di esame stabilendo che le prove di valutazione devono essere svolte ogni sei mesi quindi ci sono due prove intermedie una prova finale la prova finale poi consente di avere il certificato definitivo per poter accedere insieme al certificato di compiuta pratica all'esame di abilitazione proprio in virtù di quella delibera del consiglio nazionale forense del 2018 sono stabilite anche le date che dovrebbero essere programmate adesso a parte il primo semestre che ha creato un poco di problemi perché è entrato in vigore un poco di tardo normalmente entro il 15 aprile vengono fissate le date per la prova di valutazione di ogni semestre poi il 15 ottobre il 20 aprile e il 20 ottobre a livello nazionale si farà una prova come funziona la prova è abbastanza semplice e viene nominato una commissione ministeriale che hanno una certa durata due o quattro anni predispone una serie di domande risposta multipla 30 domande 40 domande vengono inviate alle varie scuole le varie scuole poi faranno la prova con i propri corsisti con una commissione interna che viene nominata nella scuola stessa non ci sono grandi problemi da questo punto di vista ed è abbastanza semplice il la prima complessità che è sorta riguarda al periodo cioè la domanda che ci siamo posti tutti quanti è il primo periodo di entrata in vigore della norma sostanzialmente i tre semestri combaciano con il primo esame che è previsto per dicembre del duemila e ventitré quindi primo semestre sarebbe maggio ottobre poi novembre aprile e maggio ottobre per poter fare l'esame e quindi sostanzialmente tutti i tirocinanti praticanti che si sono scritte registro del registro dei praticanti entro il 10 maggio duemila e 22 accedono ai corsi per poter poi fare l'esame di abilitazione con il certificato di aver seguito il corso obbligatorio la prima domanda che veniva posta da parte degli degli decenni vicinanti visto che il periodo è di tre semestri quindi considerando per esempio per fare un esempio pratico ad l'esame di dicembre duemila e ventiquattro i semestri non sono più tre perché si è scrive adesso per esempio quindi sarebbero quattro i semestri e la norma ne prevede tre e per risolvere questo problema il consiglio nazionale forenze con un parere espresso qualche settimana or sono ha precisato sostanzialmente che è il periodo di tirocino integrativo si chiama questo obbligatorio tirocino integrativo deve coincidere con la pratica che viene svolta sempre per fare un esempio pratica per non essere troppo generico e nel momento in cui io mi sono iscritto adesso nel registro dei praticanti devo iniziare il tirocino obbligatorio presso una scuola del consiglio dell'ordine o nelle scuole accreditate immediatamente al primo semestre successivo quindi il semestre prossimo è novembre aprile duemila e ventitré poi secondo semestre sarà maggio ottobre duemila e ventitré e poi ancora novembre e aprile duemila e ventiquattro l'esame si andrà a fare però ricordiamoci non ad aprile del duemila e ventiquattro ma si farà a dicembre del duemila e ventiquattro quindi io termino la pratica molto tempo prima mi preparo e ottengo il certificato di compiuta pratica il certificato di partecipazione al tirocino obbligatorio e ho la documentazione pronta per poter svolgere e accedere all'esame di abilitazione potrebbe anche succedere quello che è successo con i commercialisti molti di voi sanno che i commercialisti fanno una prova ogni sei mesi invece di ogni anno quindi eh la impostazione di iniziare subito anche il corso obbligatorio di tirocino integrativo potrebbe essere opportuna ma diciamo in questo caso proprio in virtù del parere è necessaria sempre in considerazione delle forenze in questo con queste delibere con queste parere richieste da alcuni consigli dell'ordine ha eh precisato che nessuno è esonerato sostanzialmente allo svolgimento della tirocino obbligatorio di questo corso obbligatorio e quindi anche il eh coloro che svolgono il tirocino davanti uffici giudiziari sono obbligati a fare il corso obbligatorio di preparazione per vista soltanto un esonero o nell'ipotesi in cui venga svolta all'estero ma soltanto per sei mesi è importante quindi evidenziare che il corso obbligatorio di tirocino integrativo deve essere svolto da tutti quanti ogni praticante che si iscrive all'albo immediatamente dopo la prima la iscrizione all'albo attende il primo periodo il primo semestre o il primo modulo come vogliamo chiamare i moduli sono fissati dal decreto ministeriale quindi non sono liberi non sono disponibili dalle parti il modulo inizia ad già l'ho detto maggio e poi inizia a novembre di ogni anno quindi io mi sono laureato mi sono iscritto al registro dei praticanti ad ottobre inizierò il mio corso obbligatorio di preparazione integrativo a novembre presso una scuola del consiglio dell'ordine o una scuola accreditata l'altra cosa importante è che contrariamente a quanto qualcuno ha sostenuto non esiste un'esclusiva competenza o titolarità svolgere i corsi perché la norma è chiara lo prevede sia l'articolo 43 quindi la nostra legge professionale sia lo prevede il decreto ministeriale ci si può partecipare o meglio il praticante può scegliere di partecipare a corsi che sono organizzati dal consiglio dell'ordine ai corsi che sono organizzati dall'associazione riconosciuta dal consiglio nazionale forense oppure alle scuole accreditate come lo è nel nostro caso foro la scuola forense foro europeo accreditata con delibera e quindi con ai sensi dire dall'articolo 43 può svolgere i corsi di preparazione un'altra cosa su cui già si è espresso qualche consiglio dell'ordine ma credo che comunque è una derivazione della interpretazione del decreto ministeriale i corsi semestrali sono hanno dovrebbero avere autonomia didattica nel senso che io posso questo anche per dare maggiore possibilità di spostarsi di prepararsi di scegliere la scuola più idonea alle proprie esigenze di lavoro alle proprie opportunità alla propria posizione territoriale ogni modulo semestrale e autonomo quindi io posso iniziare per farvi un esempio abbastanza semplice il primo semestre presso la scuola forense foro europeo e poi se prendo farò naturalmente alla prova di valutazione che avrà dovrà avere esito positivo e che con quel certificato che mi viene rilasciato io potrò andare ad un'altra scuola potrò andare questo un altro consiglio o una scuola di un consiglio per poter svolgere il corso queste sono un poco le questioni che sono sorte che hanno determinato molte domande e molte perplessità tra alcuni alcuni purtroppo non sono si sono informati bene all'inizio so di molti giovani che non sono riuscito a fare il primo semestre e sostanzialmente salvo nuove opportunità ma spero ci saranno sono rischiano di perdere un anno perché non avendo svuoto i tre semestri a partire da maggio del 2022 rischiano di dover attendere la prova di dicembre duemila e ventiquattro dico perché potrebbero esserci delle novità perché c'è un in nata impienza un ritardo usiamo questo termine da parte del ministero il decreto ministeriale prevede che il ministero sempre il decreto ministeriale naturalmente lo stabilisce deve nominare una commissione composta da avvocati magistrati eccetera che deve predisporre la documentazione per le varie prove nel decreto è previsto che le scuole forense inviano delle domande con delle risposte multiple viene elaborata una banca dati e da quella banca dati poi il la commissione insediata presso il ministero dovrà estrarre una serie di domande e inviarle con la procedura di cui ho fatto c'erano prima cioè a tutte le scuole in contemporanea per poter fare la prova questo non è successo ad oggi ancora non c'è nessuna nomina sappiamo che c'è stato il problema dello scioglimento delle camere sappiamo che il ministro è stato nominato da alcuni giorni sappiamo che anche il viceministro un collega l'avvocato sisto appresso è stato aggiornato ieri o l'altro ieri quindi siamo in attesa di conoscere la del decreto ministeriale per la nomina del commissario della commissione e per iniziare e la vedere fissate sempre dal decreto le nuove date perché le date previste dalla precedente delibera consiglio nazionale forense richiamato dal decreto ministeriale erano il 20 ottobre siamo novembre quindi abbiamo superato con la data proprio per la mancanza del sistema o l'attuazione del sistema previsto dalla normativa potrebbe verificarsi che magari nel decreto ministeriale si potrebbero aprire almeno per questo primo semestre alcuni termini per la possibilità a chi non ha terminato perché disinformato poco informato o per altri motivi di concludere il semestre previsto e per non perdere la possibilità di dover svolgere l'esame a dicembre del 2023 queste sono le informazioni di massima che ci tenevo a dare che ho dato naturalmente ai nostri tirocinanti che hanno partecipato al corso noi abbiamo concluso il primo semestre e inizieremo novembre con il secondo semestre poi andremo avanti naturalmente ogni semestre così come prevede il decreto ministeriale se ci sono domande io sono a disposizione altrimenti io lascio il video registrato a disposizione per questo video per poter essere visto a piacimento anche se capisco che è un poco difficile dare delle indicazioni ben precise però ormai il quadro con il quale deve essere svolto il tirocinio è abbastanza ben delineato quindi salvo questa ulteriore possibilità che viene data dal decreto ministeriale che dovrebbe nominare la commissione per lo svolgimento della prova tutto è stato completato manca soltanto la modifica eventuale speriamo venga fatta alla legge professionale per ridurre credo che potrebbe essere una grande occasione per facilitare anche l'accesso soprattutto per per dare la possibilità per esempio chi si studia continua a prepararsi in diritto civile di poter poi scegliere come prova il civile oppure penale oppure amministrativa quindi vedremo nei prossimi mesi quale sarà l'indirizzo del nuovo ministro e le nuove disposizioni che troveremo quello che è importante evidenziare che io ritengo che fare il corso non deve essere preso come ulteriore negatività per l'accesso alla professione e frenza perché il corso fatto bene se il corso organizzato che dà la possibilità di prepararsi ai pareri di prepararsi alle discussioni e quanto altro con calma nei 18 mesi e integrato con la pratica che deve essere svolta negli studi legali naturalmente potrebbe essere una ulteriore opportunità e facilità per poi poter svolgere alla fine l'esame in modo semplice e soprattutto per apprendere come va fatta la professione quali sono le modalità con cui deve essere svolta la nostra professione se c'è qualche domanda potete scriverla naturalmente sulla chat se non c'è nessuna domanda io posso fermarmi qua se ci sono delle altre domande potete inviarle alla nostra segreteria segreteria chiocciola foro europeo.it oppure potete anche telefonare la nostra segreteria vi darà tutte le informazioni poi chiamarmi naturalmente 0632 25071 tutti i giorni feriali dalle ore 10 e 30 prescindendo dalla iscrizione naturalmente con tutta la libertà non abbiamo nessuna necessità di obbligare e obbligare chi chiede informazioni poi a scriversi alla nostra scuola è una scelta che ognuno è libero di fare senza nessun impegno vedo che non ci sono domande aspetto ancora qualche altro secondo e mi fermo qua. Punti di riferimento per chi vuole affrontare tutte le problematiche le trovate nell'articolo 43 della legge 247 del 2012 nel decreto ministeriale 17 2018 che potete scaricare da foro europeo da normativa da altri posti e sul sito web del consiglio nazionale forense cercando delle scuole forense troverete anche la delibera del 2018 con le linee guida quindi chi ha voglia può approfondire tutte le problematiche. Su foro europeo ho pubblicato anche i pareri che ultimi del consiglio nazionale forense pubblicheremo anche eventuali notizie successive sia in relazione alla nomina del ministero sia in relazione agli altri pareri che dovrebbero essere che potrebbero essere fatti ma mi pare di capire che ormai le FAQ alle domande è stata data quasi una risposta a quasi tutte le domande più importanti potrebbero esserci altri problemi in relazione ad eventuali altre novità normative di decreto ministeriale. Allora Quella è la domanda, la prima domanda non ha senso, questa era un'interpretazione il semestre di novembre non è il secondo il semestre di novembre il corso, infatti molte scuole iniziano il corso a novembre è vero che i tre semestri poi finiranno come ho detto io ad aprile del terzo semestre quindi nel caso iniziando adesso a novembre si fa novembre-aprile, maggio-ottobre, novembre-aprile nel 2024. Perché la interpretazione è stata data in questo senso? Per un motivo molto semplice perché la pratica forense mica si fa, io inizio la pratica forense appena mi sono laureato poi l'esame non necessariamente lo devo fare ai primi 18 mesi successivi lo posso fare anche successivamente. Quindi il Consiglio nazionale forense per dare uniformità al sistema ha espresso questo parere, io mi scrivo, inizio la pratica forense siccome il corso obbligatorio è un corso integrativo della pratica forense è la stessa cosa che io sono obbligato a fare le udienze, a preparare il libretto e quindi succede nello stesso modo per il tirocinio, per il corso obbligatorio integrativo che deve essere collegato. Finirò sei mesi prima, cinque mesi prima ma sostanzialmente il corso integrativo è a mio avviso una impostazione mirata soprattutto a preparare i giovani a svolgere l'attività professionale così come lo fanno quando vanno a fare l'udienza o quando preparano gli atti negli uffici regali Allora, questo è un altro discorso, l'ho già detto prima i semestri, noi abbiamo fatto il progetto, spero anche gli altri credo un poco tutti perché quella è l'impostazione i semestri sono dei semestri didattici autonomi quindi il semestre che è stato fatto già da maggio a ottobre è un semestre dove ci sono dei programmi e non sono naturalmente, non è una ripetizione adesso il semestre che si fa successivamente anche perché la materia è talmente vasta, diritto civile, procedura civile, procedura penale avete visto, se andate a vedere le materie sono enormi noi abbiamo programmato semestri didattici autonomi ogni semestre si affronta un argomento per fare un esempio banale, il corso che faccio io sull'ordinamento professionale la deontologia, il processo telematico e quanto altro io ho programmato sei ore di svolgimento di questo corso due ore li ho già fatti adesso nel primo semestre due ore le farò nel secondo semestre e due ore nel terzo semestre poi si ricomincia un'altra volta con due ore, sei ore eccetera quindi è un sistema a rotazione e quindi essendo autonomi sostanzialmente il fatto di trovarsi con chi sta a secondo semestre rispetto a chi inizia non c'è nessuna differenza perché comunque bisognerà concludere il periodo didattico come è stato programmato per quanto ci riguarda noi abbiamo programmato quando abbiamo chiesto l'accreditamento è un periodo didattico di tre semestri per raggiungere nel nostro caso noi abbiamo previsto 60 ore a semestre quindi 3 per 6, 18 nelle 180 ore noi faremo ogni semestre 60 ore di queste 60 ore soltanto una parte è obbligatoria quindi il teoricinante può partecipare soltanto una parte e gli altri invece sono liberi da fare autonomia didattica questo significa che io mi faccio i miei bravi tre semestri acquisendo per ogni semestre informazione o materie o argomenti diversi che sono redazioni di pareri adesso stiamo facendo molto questo sistema della doppia prova orale per prepararsi quindi si prepara il quesito i teoricinanti e i corsisti predispongono una scaletta poi se ne discute insieme con il docente e questa è la fase che si sviluppa di semestre in semestre ogni volta ci saranno dei quesiti diversi dei pareri diversi e così via l'idea che per quanto ci riguarda abbiamo sviluppato è quello di creare questo studio che non è uno studio universitario assolutamente il nostro è basato sulla casistica è improntato sui casi anche quando facciamo le lezioni didattiche o le lezioni frontali svolte direttamente dai nostri docenti cerchiamo sempre di esaminare un caso specifico una sentenza per esempio della volta costituzionale o una sentenza da una commissione tributaria su quello svolgere poi tutta l'analisi che deve essere fatta per dare un quadro completo e per far comprendere la tirocinante che sì è importante andare a fare l'udienza e quindi preoccuparsi di assistere all'udienza ma anche è importante capire come deve essere redatto un parere come deve essere data una risposta a un cliente come deve essere esaminato un caso se c'è qualche domanda altra domanda io sono qua a disposizione altrimenti basta scrivere un'email a segreteria a chiocciolaforoeroopeo.it oppure chiamare al nostro numero telefono 06-322-25-071 benissimo allora io vi ringrazio per la partecipazione vi saluto e resto a disposizione con tutto lo staff che segue la scuola forense ormai foro europeo da molti anni con i docenti i tutor e con la segreteria organizzativa grazie a tutti